Queste fusioni ci cascano sempre addosso, quindi non c'è una discussione prima che l'azienda prova a condividere o coinvolgere in queste cose. I segnali che avevamo ci portavano a pensare quello, perché non ci sono commesse nuove, non ci sono stati movimenti per cui potessero andare avanti da soli. Immaginavamo appunto questo esito. Un po' destabilizzante però ci sembra positivo perché come tutti auspichiamo alla piena occupazione e il fatto che non ci sia nessuna chiusura degli stabilimenti ci ha dato una spinta in più nell'essere positivi. Bisogna monitorare bene che tutti i piani di investimento annunciati fino a oggi poi vengano in effetti mantenuti in essere ora dalle due aziende. Questo per noi sarà una discriminante, un punto da tutelare, da monitorare con costante attenzione. Speriamo che il governo italiano ci possa dare una mano ad affrontare questa situazione e per riuscire ad affrontare sempre il futuro in maniera differente e soprattutto migliore. Bisognerà trovare un tavolo in cui poter discutere sia dalla parte aziendale che dalla parte del nostro governo per trovare la soluzione ai problemi che adesso come adesso hanno tutti i lavoratori fondamentalmente di Torino. Si parlava già tempo fa di questa fusione, noi effettivamente l'aspettavamo, solo che effettivamente siamo in cassa integrazione. Il problema è di capire le ricadute che avverranno su Italia e su Torino perché noi ne abbiamo vissuto già quella precedente con la Chrysler e sono dieci anni che noi siamo in cassa integrazione. L'FCA sta preparando la cena con quello che le è rimasto in dispensa, non sta facendo spese su nuovi prodotti e non si sta inventando nuove ricette. Questo galleggiare era funzionale agli obiettivi della fusione ma sicuramente non era funzionale agli obiettivi di piena occupazione e non è funzionale alla sopravvivenza di un'azienda automobilistica moderna. Stare fermi a volte è peggio che sbagliare. C'è modo e modo di licenziare le persone. Se la riduzione del personale passa per un accompagnamento alla pensione, sindacalmente potrebbe essere, e dico tra virgolette, potrebbe essere accettabile, altro assolutamente no. Questa paura tentiamo di metterla da parte perché non si sa mai cosa potrebbe succedere in un futuro prossimo, speriamo di no. Un lavoro anche dei vari governi, del governo italiano ci deve essere, quindi intanto in primis che il governo faccia la sua parte.